Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi un confronto tra le QCY-T3 e le QCY-T1. Le volevo mettere a confronto perché sono della stessa ditta, stessa azienda che produce auricolari, ma hanno due differenti modalità di ascolto sia per una che per l'altra. Ma andiamo a vedere insieme prima di che cosa stiamo parlando. Le prime di cui volevo parlarvi sono queste qui, le QCY-T3. Le QCY-T3 della Omscam sono delle cuffie che mi sono state inviate da loro e che trovo siano migliori rispetto alle altre per due semplici motivi. Uno, comodità per quanto riguarda l'inserirlo nel padigliore auricolare. E due, la velocità e la stabilità con cui riescono a rimanere collegate tramite il Bluetooth sul vostro dispositivo. Inoltre, volevo anche dirvi che sono fatte veramente bene anche perché sono curate in ogni minimo dettaglio. Sì, si avvicinano abbastanza alle cuffie della Apple, ma hanno una caratteristica diversa, che è soprattutto quella di essere molto ma molto più economiche. Innanzitutto volevo dirvi che le QCY-T3, ovvero della Omscam, sono delle cuffie che hanno un input a 5x500 mAh e un output da 5x200 mAh. Sono costruite in Cina e per ricaricarle si utilizza un cavetto micro USB che ricarica le cuffie in 4 ore, più o meno, ricarica l'alloggiamento delle cuffie. Le cuffie al loro interno, una volta scariche dalle mie prove che ho fatto, è venuto fuori che si ricaricano ad una velocità pari alle 2 ore allo 0% di batteria. Una volta collegata il vostro dispositivo, potete controllare la percentuale della batteria sul display del vostro cellulare. Inoltre le QCY-T3 sono delle cuffie che si sentono abbastanza bene, diciamo che hanno una, possiamo dargli una votazione pari a 7,5, perché? Perché gli alti sono perfettamente ottimi, ma i bassi si ha qualche laggettino, soprattutto nelle canzoni in cui il livello dei bassi è lievemente basso. Queste cuffie, infatti, hanno una custodia di ricarica di 600 mAh, hanno i controlli Smart Touch, hanno un grado di impermeabilità IPX5, e hanno il Bluetooth 5.0 e sono compatibili con qualsiasi dispositivo sia Android che iOS. Le altre cuffie in cui volevo parlarvi sono le QCY-T1. Le QCY-T1 sono delle cuffie che si sentono abbastanza bene, hanno dei buoni bassi e dei buoni alti, quindi stiamo a una votazione pari al 6,5, e volevo anche dirvi che si collegano molto facilmente al dispositivo Bluetooth, ma il problema principale di queste è che una volta che si sposta il telefono, anche di un paio di metri dal raggio di azione delle cuffie, tendono a scollegarsi. Questo problema l'ho riscontrato soprattutto quando sono andato a correre, quindi all'aria aperta, ho preso il mio dispositivo e l'ho messo dietro nella tasca posteriore dei miei pantaloni, e ho trovato una piccola problematica per quanto riguarda il Bluetooth. Si ricaricano con un ingresso, con un cavetto, quindi da micro USB, ricarica la batteria dello slot che va dalle 5 alle 6 ore, e i tempi di ricarica allo 0% di una singola cuffia va dalle 2 alle 3 ore. Non sono abbastanza veloci per quanto riguarda i comandi touch, perché hanno appunto dei pulsanti fisici per collegarsi direttamente al dispositivo, e quindi se si vogliono fare delle telefonate all'aria aperta, non isolano il suono per quanto riguarda la parte del microfono, ma isolano perfettamente la parte audio della musica, e di qui lo ascolta. Mentre per quanto riguarda l'interlocutore, si hanno delle piccole problematiche di recezione. Un'altra caratteristica che mi sento di dirvi è che sono delle cuffie che sono abbastanza leggere, quindi molto facili da trasportare, non vengono via dal padiglione auricolare, quindi non si hanno problemi nel caso in cui queste cuffie si scolleghino dal padiglione auricolare, quindi vi cadono per terra. Io le preferisco alle altre per un semplice motivo, perché sono delle cuffie che si mantengono abbastanza bene al padiglione auricolare, quindi nell'ambito sportivo, per me sono delle ottime cuffie. Bisogna però fare attenzione alla problematica del Bluetooth, perché si scollegano molto facilmente, quindi a parità di prezzo io sceglierei le QCY T3. Volevo darvi delle piccole specifiche tecniche per quanto riguarda queste cuffie. Queste cuffie hanno una custodia di ricarica da 380 mAh, hanno i pulsanti fisici, quindi doppio tap per rispondere alla chiamata, un tap solo per pausa, un tap per replay, e triplo tap per attivare l'assistente vocale. Hanno entrambe una configurazione Bluetooth 5.0 e sono compatibili per tutti i smartphone, sia Android che iOS. In definitiva, che cosa volevo dirvi? Che se si vogliono utilizzare questi due tipi di cuffie, io sceglierei le QCY T3, sia per la durata di ricarica, sia per quanto riguarda la velocità di connessione con il dispositivo, e sia perché mantengono molto più facilmente il telefono collegato anche quando si va a correre o si fa dell'attività sportiva all'aria aperta. Non isolano perfettamente come le T1, ma le T3 le reputo delle buone cuffie anche per quanto riguarda il design e per quanto riguarda la velocità di collegamento con lo smartphone. Poi hanno un grado di impermeabilità più alto rispetto alle QT1 e quindi credo che siano abbastanza ottime per quanto riguarda anche quando si è all'aria aperta e quindi si è a contatto con il sudore. Per quanto riguarda queste qui, invece, l'ultima premessa che vi volevo fare è che l'interlocutore vi sente molto bene e la qualità del microfono è abbastanza ottima. Non ho ricevuto lag da parte del Bluetooth, ovviamente sono delle cuffie entry level, quindi non possiamo avere delle prestazioni a livello delle AirPods, ma credo di potervi garantire che queste QCY siano delle ottime cuffie e che abbiano un'ottima qualità per quanto riguarda l'audio. Io con questo vi ringrazio. Prima di salutarvi, volevo ricordarvi che vi potete iscrivervi al mio canale YouTube Il Tecnologico, inoltre potete seguirmi sulla mia pagina Facebook Il Tecnologico ed inoltre attivare la campanellina per non perdere alcun aggiornamento video. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. A presto! A presto!